Uomini e donne, Valentina Dallari sta male, il messaggio di Fabio Colloricchio Valentina Dallari sta male, le parole di Fabio Colloricchio che con lei ha condiviso l'esperienza Uomini e donne. Nelle ultime ore molto si sta discutendo delle affermazioni fatte dall'ex tronista di Uomini e donne Valentina Dallari. Al centro del dibattito, prima alcune foto della ragazza, e poi diverse dichiarazioni dalla stessa rilasciate. Sui social e successivamente in un'intervista la stessa avrebbe ammesso di soffrire di disturbi alimentari e di stare passando un momento difficile. La notizia, ovviamente, si è diffusa a macchia d'olio sul web tanto che, uno degli ex protagonisti di Uomini e donne, ha voluto a suo modo esprimere vicinanza alla Dallari. Si tratta di Fabio Colloricchio, ex tronista, che con Valentina ha condiviso l'esperienza Uomini e donne. Purtroppo quando si è esposti oltre ad avere il pro di essere seguiti cè anche il contro di avere a che fare a volte con persone poco delicate scrive Fabio sotto una foto postata ritraente lui e Valentina. In questi anni ci siamo persi di vista aggiunge poi lo stesso So che adesso non stai passando un bellissimo periodo ma so per certo che la soluzione la troverai. Un messaggio di affetto e stima che Colloricchio conclude scrivendo, Ti conosco e sei forte e abrazzo fuerte. Valentina Dallari soffre di disturbi alimentari. Le ultime dichiarazioni dell'ex tronista di Uomini e donne. . Dopo aver scritto la sua opinione sui social Valentina Dallari ha rilasciato un'intervista a fanpage.it dove ha tirato fuori tutti i suoi scheletri nell'armadio. . Stando a quanto dichiarato, la dei AI soffre da tempo di disturbi alimentari ma, al momento, sta facendo di tutto per uscirne. . Seguirà una cura in un certo specializzato e, con l'aiuto dei suoi genitori e del suo fidanzato, cercherà di superare a testa alta questo brutto periodo. . . Le continue polemiche non le hanno fatto di certo bene, tuttavia, le persone che le stanno vicino le stanno dando un grande aiuto. . . .